Musica Mercoledì 1 marzo torna l'informazione su TRMH24 alle prime luci dell'alba nei quartieri San Pio e Catino a Bari operazione antimafia dei carabinieri, oltre 100 militari supportati da un elicottero, cani antidroga, metal detector e sofisticate strumentazioni tecnologiche impegnati in arresti e perquisizioni a tappeto alla ricerca di armi e droga. Nel mirino degli investigatori sono finiti i presunti esponenti del clan Strisciuglio e dalle prime informazioni raccolte sarebbero stati annientati i vertici il braccio armato del clan che è uno dei più agguerriti in città. L'operazione giunge al termine di oltre due anni di indagini condotte dal nucleo investigativo del reparto operativo e coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso armata, detenzione, porto illegale di armi anche da guerra, traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Ulteriori dettagli nel corso delle prossime edizioni. Ora parliamo della questione ambientale in Basilicata, la regione di Fida-Leni. Ieri c'è stato un tavolo tecnico in regione. Presso il Dipartimento Ambiente della regione Basilicata, tavolo tecnico sul petrolio reso necessario a seguito della fuoriuscita di idrocarburi da uno dei serbatoi di stoccaggio stabilizzato del centro olio Eni a Vigiano. Un evento che ha fatto scattare quanto previsto dalla prescrizione del testo unico per l'ambiente. Al faccia a faccia hanno preso parte, tra gli altri, il nuovo responsabile del distretto meridionale di Eni, Zarri, il direttore Arpa Biannicelli ed i sindaci di Grumento Novevigiano. Dopo le decine di rilievi svolti dalla multinazionale del cane a sei zampe, è emerso. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettuerà carotaggi autonomi sull'area interessata. Dei nuovi dati sarà stabilito se vi è stato un superamento della soglia considerata a rischio. Una terzietà nei controlli, ha dichiarato il primo cittadino vigianese Cicala, che presuppone un cambio di marcia. Sulla colorazione dell'invaso del Pertusillo, invece, Cicala ha salutato positivamente i nuovi controlli Arpab, dei quali, ha precisato il sindaco, ci attendiamo ulteriori risvolti nei prossimi giorni. Torrente Iesce, il sindaco di Matera vieta l'utilizzo delle acque. Con una ordinanza emessa ieri, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, ha disposto il divieto assoluto di utilizzo a qualsiasi fine, compresi usi rigui e zootecnici, delle acque del torrente Iesce nell'intero tratto e di emungimento e utilizzo dell'acqua dei pozzi privati, autorizzati e non eventualmente alimentati dallo Iesce. La decisione trova fondamento nella nota dell'Arpab del 22 febbraio scorso, nella quale, in seguito ad analisi chimiche e microbiologiche effettuate sul campione di acqua in località Trepponti, sono state accertate le concentrazioni dei parametri chimici BOD5, COD, ammoniaca, ione ammonio, fosforo totale e tensioattivi e cospicuo valore di Escherichia coli con elevato grado di inquinamento organico. Tale inquinamento, si legge ancora nella nota dell'Arpab, potrebbe essere riconducibile ad emissioni nel torrente di reflui urbani e zootecnici non depurati. L'ordinanza del sindaco si è resa necessaria in via cautelativa e precauzionale al fine di tutelare la pubblica incolumità e sarà comunicata anche ai sindaci di Altamura e Gravina. A Bari rinnovata la convenzione tra Università e ARPA. Un nuovo modello di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. La convenzione firmata tra ARPA Puglia e Università di Bari, che rinnova la collaborazione tra i due istituti, mira a cambiare e modernizzare i processi di monitoraggio e controllo dell'ambiente pugliese proprio tramite i laboratori dell'Ateneo barese. La nostra Università ha sempre coltivato i rapporti con l'Agenzia per l'ambiente regionale. Oggi definiamo un percorso che riguarda in particolar modo i temi della formazione, il tema anche della valorizzazione delle competenze del Dipartimento di Scienze Politiche e del lavoristico del nostro Ateneo nella cura dei rapporti sindacali. E poi un percorso anche di proiezione esterna, di condivisione di iniziative formative e congressuali che credo un'Università con un'anima verde, quale vuole essere, qual è sicuramente l'Università di Bari, ha particolare interesse e volontà di proiettare all'esterno. L'Università si occuperà anche della rimodulazione delle funzioni di ARPA per effetto della recente legislazione nazionale e della legislazione regionale in via di approvazione. La sinergia fra queste istituzioni ovviamente può rafforzare i progetti di formazione dell'Agenzia sia per i profili di carattere scientifico ma anche per quelli di carattere organizzativo e istituzionale perché saremo a breve chiamati a confrontarci appunto con questa nuova legge e quindi con un modello di sviluppo delle agenzie regionali completamente diverso da quello tradizionale. In questo senso il supporto scientifico e istituzionale dell'Università può essere per ARPA e deve essere per ARPA un ulteriore stimolo a fare bene, a migliorarsi, a confrontarsi con un partner istituzionale importante nella nostra regione. Il Gup del Tribunale di Bari Anna Chiara Mastro Rilli ha rinviato a giudizio quattro imputati tra cui l'imprenditore barese Emanuele De Gennaro e l'avvocato Giacomo Olivieri segretario nazionale del Movimento Realtà Italia per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata relativa al fallimento della società finanziaria barese CTFSRL. Il processo inizierà il 4 di maggio. E ora parliamo di sicurezza perché il sindaco del capologo Pugliese De Caro ha annunciato nuove misure che verranno attuate nel quartiere Libertà. Un presidio territoriale incrementato e permanente ed una serie di operazioni ad alto impatto, la prima delle quali a breve. Questi due interventi che la Questura di Bari durante il tavolo tecnico sulla legalità ha svolto Sighieri ha deciso di mettere in atto nel quartiere Libertà di Bari alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca che hanno portato all'arresto di 5 persone legate al clan Strisciuglio. Il primo cittadino Antonio De Caro mesi fa, in seguito alle continue denunce dei commercianti del quartiere, chiese aiuto alle forze dell'ordine e all'associazione anti-racket affinché intervenissero per eliminare un pezzo di una criminalità organizzata che nuoce fortemente il commercio barese. Abbiamo tagliato un traguardo importante, ha dichiarato il sindaco De Caro, perché oggi, a differenza di quanto accadeva in passato, la gente ha imparato a denunciare. Ma l'azione di contrasto alla criminalità non si ferma qui. Infatti l'amministrazione comunale sta portando avanti una serie di indagini su diversi quartieri, indagini che incrociano dati relativi alla percezione sulla sicurezza, dati legati al numero e alla tipologia di reati commessi e all'estrazione sociale delle famiglie presenti. In questo modo possiamo aiutare le forze dell'ordine nel proprio lavoro attraverso la cosiddetta crime mapping, una mappa della criminalità. Ha concluso il primo cittadino di Bari. Il Vail Coordinamento RSU-Fioma, riunitosi per discutere dei contenuti dell'accordo sugli ammortizzatori sociali sottoscritto al Mise, ritiene ancora aperta la discussione relativa ai futuri asset industriali, legata in particolar modo alla presenza dei piani industriali, e ribadisce che qualsiasi ipotesi di esubero strutturale sarà rispedito al mittente. Il sindacato annuncia che qualora si prefigurasse in occasione della prossima presentazione dei piani industriali delle due cordate, un ridimensionamento degli attuali livelli occupazionali e di mancanza di investimenti per il processo di risanamento ambientale, metterà in campo azioni di lotta e mobilitazioni. Malattie rare la Regione Puglia va avanti con la rete delle ASL, ma se non usciamo dal piano di rientro non possiamo investire fondi. Sentiamo. Rari e proprio per questo importanti. Le persone colpite da malattie rare spesso rischiano di non essere curate appropriatamente, perché i sistemi sanitari lavorano sui grandi numeri. In Puglia esiste un sistema informativo coordinato dalla dottoressa Giuseppina Agnichiarico, che nel giro di pochi mesi è riuscito a realizzare una rete tra gli ospedali per ottimizzare le cure, anche attraverso centri territoriali in ogni ASL. I risultati della prima fase sono stati presentati in Regione Puglia dal Presidente Michele Emiliano. Il fatto che in pochi anni la Puglia sia stata capace di recuperare un lunghissimo gap e lo abbia fatto con i risultati che sono stati illustrati mi riempie assolutamente di orgoglio. Ma questo orgoglio evidentemente deve trasformarsi in attenzione. Un'attenzione che noi abbiamo consolidato nell'organizzare la battaglia, perché di battaglia si tratta. Io adopero sempre metafore di questo genere, un po' perché mi chiamo Michele, un po' perché è evidente che quando ho cominciato a guardare il campo di battaglia ho avuto veramente l'impressione che mentre rispetto alle malattie note, chiamiamole così, il problema organizzativo ha sicuramente delle enormi complessità, ma ha comunque uno schema. La rete oncologica, noi nel momento in cui politicamente abbiamo deciso che la dovevamo fare, l'abbiamo fatta e non ci abbiamo messo niente. Sono oltre 18.000 i pugliesi affetti da malattie rare e censiti dal coordinamento regionale, ma sono ancora molte le patologie non coperte dai livelli essenziali di assistenza sulle quali la Puglia non può puntare perché è ancora in pieno di rientro. Una situazione che dovrebbe però sbloccarsi presto, consentendo alla Regione di investire. Investimenti che non solo allevieranno le sofferenze delle persone, ma secondo me alla fine ci faranno anche migliorare ulteriormente il bilancio perché quando non sai come affrontare una situazione, rischi anche in quel caso non solo di far danno al paziente, ma anche in molti casi di adoperare terapie che sono superfili, in molti casi costosissime, o addirittura come ci capita anche con viaggi della speranza alla ricerca di miracoli che spesso non avvengono nonostante costi esorbitanti di questi tentativi. Mi spiace per lui ma non condivido tutto quello che si sta dicendo. Fabo viene presentato come eroe, invece è uno sconfitto. Chi scappa è sempre un vigliacco. Gli eroi sono le persone che giorno dopo giorno portano avanti la propria vita anche in condizione di dolore. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Don Luigi Larizza, parroco della Chiesa Sacro Cuore di Taranto, non nuove a sternazioni che fanno discutere. Commentando la vicenda di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, rimasto paralizzato dopo un incidente che ha scelto di morire in Svizzera. Il mondo batte le mani a Fabo, ha detto Don Luigi, perché abbiamo gettato a mare i valori veri e li abbiamo sostituiti con la capacità di ballare, correre e gridare. La vita non è il movimento e i soldi, la vita è bellezza dell'incontro con se stesso e con i valori. Ora parliamo di Matera 2019. Si parla di sostenibilità guardando al modello di Ors 2017. Il tema della sostenibilità ha un valore che permea tutto il dossier di Matera 2019 e che caratterizza la storia millenaria della città e anche al centro del programma culturale di Ors, capitale europea della cultura 2017. La cittadannese è stata infatti la prima ECOC a presentare un modello della sostenibilità che incoraggia la riflessione sul rapporto fra umanità e natura e suggerisce buone pratiche per poter vivere in maniera più sostenibile, per comprendere come il modello di Ors possa essere declinato nel contesto lucano. La fondazione Matera Basilicata 2019 ha organizzato due giornate di incontri dal titolo, dal vecchio mondo arriva il nuovo, Matera 2019 presenta il modello della sostenibilità di Ors 2017, in programma ieri ed oggi a Matera nella suggestiva Casa Cava, nel corso degli incontri, la possibilità di conoscere casi locali, nazionali e internazionali che operano e progettano facendo propri temi della sostenibilità ambientale e culturale. Le iniziative per il carnevale per l'ultimo giorno e martedì grasso a Matera. Se da un lato la crescente tecnologia consente di vivere scenari fino a qualche anno fa non immaginabili, dall'altro c'è chi va alla ricerca delle proprie radici per riscoprire cose semplici ed autentiche senza rifiutare social network, tablet, smartphone, cultura materiale e cultura virtuale si possono incrociare in momenti di crescita ed è stato questo lo spirito con cui le associazioni Slow Food Matera, Casa Natural, il Girasole, il quartiere si muove, hanno dato origine a Matera ad un evento in occasione del carnevale. Nei quartieri gruppi di bambini hanno progettato e realizzato maschere della tradizione carnascialesca lucana usando materiali semplici e da riciclo. Non è mancata la figura protagonista del carnevale meridionale, il maiale realizzato in cartapesta da un gruppo di studenti di diverse scuole superiori e che ieri è stato trasportato a spalla dagli stessi studenti in un corteo partito da Piazza San Pio X per raccogliere le maschere nelle varie sedi e poi incontrarsi tutti nella piazza del mercato di Piccianello, ex mattatoio comunale. Maschere lucane, la festa, i quartieri, la cartapesta, il riciclo, il laboratorio, il maiale, il mattatoio, la salsiccia, il pane di Matera si sono mescolati quindi in un divertente mix di esperienze che hanno fatto gridare a carnevale ogni quartiere vale. È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.